se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi dei completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bentornati in questo nuovo video e benvenuti perchè nuovo nel canale ragazzi oggi entreremo a casa di franklin, non mi scaramellate, esiste da un botto di tempo lo voglio riportare come tutti gli altri che ho portato oggi ma intanto ragazzi ho visto una cosa strana qua da franklin spawna questa auto qua che ben voi sapete che è un'auto nuova comunque sia, spawna ma non ci fa interagire, non ci fa entrare non ci incischiamo e partiamo con il glitch veniamo qui in casa di franklin ragazzi ci attacchiamo al vetro e a questo punto andiamo a schiacciare il menu di pausa andiamo su online e via attività create da rockstar modalità competizione ragazzi mi raccomando dopodichè andiamo ad avviare la solita attività che avviamo sempre, fare queste cose 4 colpi e via ragazzi quindi una volta che andremo ad avviare questa attività andiamo nella prelobby e quando saremo nella prelobby non ci resterà altro che cliccare B e A se giochiamo da xbox o cerchio e x se giocate da play per quittare l'attività e una volta raga che andremo a quittare l'attività possiamo fare sbada bam raga saremo all'interno di casa di franklin potremmo girare, cazzeggiare, vedere tutta la casa nei minimi dettagli vi voglio solo far vedere io determinate cazzate che io non mi compacito ragazzi ok che la casa non è esplorabile ma guardate che bordello ha fatto rockstar qua dentro ci sono tutte le cose sovrapposte divani in mezzo al cazzo passiamo attraverso le sedie non hanno lavorato così tanto bene qua dentro ragazzi non gliene fregato proprio un cazzo questo ci fa capire che rockstar va a tocchiniare solo quello che gli serve perché guardate sto cazzo di divano come è piazzato qua dentro comunque ragazzi lasciate un like, lasciate un commento supportate xavix, condividete, iscrivetevi, commentate, supportate il canale e alla prossima, bella grazie a tutti grazie a tutti